musica dici ma esiste o non esiste? cosa esiste? se questo idiota si toglie dal cazzo e stoglieti dal cazzo a chi esiste? adesso ve lo mostriamo, vedete davanti a questo idiota? io non posso sopportarlo, guarda qua, hai visto? perché ogni volta che cerchiamo via sto cazzo diciamo guarda c'è via sto cazzo, però ci domandiamo come facciano a restituirci via sto cazzo ci riescono grazie a questa roba qui, di nuovo qua l'idiota, di nuovo qua l'idiota ma proprio un idiota, io per quello che incarna, vedi il progresso e la miseria piccolo borghese di quartiere e toglieti dal cazzo allora adesso dove va Google Maps? di qua? e noi andiamo di qua, mica ci abbiamo niente da fare siamo ricchi, possiamo permetterci di trascorrere tutta la giornata appresso al signor Google Maps ma quell'idiota che mi stava davanti al cazzo, ma tornatene all'assessorato alla nona